Come è il film del 1799? Come è il film del 1799? Nel film il regista sono io, Vincentini in arte nella realtà facendo l'insegnante Enzo Gianmarino e nel cast abbiamo avuto la fortuna di avere Patrizio Rispo, Giuliana Gargiulo, Mario Porfido e altri straordinari interpreti che sono arrivati a farci compagnia. Tra cui Cinzia Profitta giornalista e bravissima presentatrice televisiva, oltre naturalmente Attina Bonaiuto, grandissima attrice di teatro e tutta una serie di caratteristiche di strada. I protagonisti sono due ragazzini. La trama del film è quella di un intellettuale che incontra un altro intellettuale che fa il preside e questo preside quasi lo costringe a mettersi all'opera in un film che ripercorra le storie di un romanzo che parla del 1799. L'intellettuale si convince a farlo non tanto per buon cuore ma perché spera che un assessore amico gli dia un po' di denaro attraverso una sponsorizzazione, uno stage, una ragazza che viene assunta. Sono quelle classiche cose che accadono nel mondo di tutti i giorni, no? Ebbene, quando questa ragazza arriva in realtà sul set, non è quella che lui pensa perché la sua assistente ha preso un'altra ragazzina, una che ha una capacità. È una maghetta, una che per far vivere meglio ai ragazzi il 1799 li fa sognare questa storia, li fa tornare lì e in pratica li fa immergere in questo mondo. Solo che le loro mamme si domandano, ma questi ragazzi perché non si svegliono più, perché non vanno più a scuola? Per tacitarle, quale migliore idea di farle vincere al lotto? Perché alla fine il lotto e il denaro serve sempre a tranquillizzare tutti, ma intanto il film va avanti. Va avanti la storia, i ragazzi ne sognano, nel quartiere continuano a accadere le cose. E quando l'intellettuale che si trova a corto di denaro blocca il film, si bloccano anche i ragazzi. Non si svegliono più, neanche per mangiare. Ma quando in sogno gli arriva la nonna, che dice ma guarda che tra quelli del 99 c'era anche un nostro parente, come può lui rifiutarsi? Ci sarà un buon fine? Ci sarà un happy end? Chi lo sa? Venite a vedere il film. Grazie a tutti.